Realmea abbiamo imparato a conoscerla nell'arco di questi mesi per la sua capacità di produrre una serie di smartphone da rapporto qualità-prezzo davvero notevoli. Vediamo se riuscirà a fare la stessa cosa anche in questa serie di oggetti tech che ci ha fornito. Voglio partire come prima cosa da quello che più in assoluto mi è piaciuto e mi ha soddisfatto, ovvero queste Buds Air Neo. Si caratterizzano da una cosa però innanzitutto che non è positiva, ovvero dal fatto che abbiamo una porta di ricarica che è di tipo micro USB. Escluso questo però per il resto non sono solo notizie positive. Innanzitutto la costruzione è solida e ben fatta sia del case che degli auricolari stessi. Lo sportellino ha un piccolo magnete che consente quindi di tenerlo sempre chiuso, di richiudersi se noi lo spingiamo, in modo quindi da evitare, da escludere la possibilità di perdere facilmente i nostri auricolari anche perché proprio gli stessi hanno un'altra calamita all'interno. Ovviamente la forma ricorda moltissimo quelle delle Airpods, anche se non è identica, essendo alla fine leggermente più grande e anche un pochino più spessa, mantiene comunque, c'è da dire, tutte le caratteristiche di portabilità. Infatti è assolutamente comoda da portarsi con sé anche durante l'estate, con i pantaloncini corti, quindi veramente un design riuscito anche se ripreso. Abbiamo poi sulla parte frontale un piccolo tasto per forzare l'accoppiamento che altrimenti avviene semplicemente aprendo lo sportellino. Da menzionare assolutamente che è presente la compatibilità con Google Fast Pair, quindi con tutti i dispositivi Android alla fine basterà aprirle perché vengono riconosciute e venga quindi proposto proprio l'abbinamento. Sono di tipo in-ear, quindi senza gommino e questo le rende estremamente comode da indossare e mai fastidiose nemmeno dopo molte ore. Anche se la forma degli auricolari vari e propri ricordano le Airpods, hanno il gambo che qui non è tondo ma leggermente schiacciato da un lato ma poco male. In assoluto comunque alla fine per quanto mi riguarda la cosa migliore di questo tipo di auricolari, anzi proprio di loro, di queste Realme Buds, è la qualità audio e in particolare dei bassi perché sono veramente fenomenali calcolando il tipo di costruzione. Questo sicuramente grazie al driver da 13 mm che sono stati calcolati e fatti apposta proprio per aumentare i bassi. Ottima comunque anche la qualità vera e propria dell'audio e dell'ascolto e da segnalare l'assenza di lag tra audio e video, ma su questo c'è un argomento particolare di cui parlare. Sono adatte quindi comunque alla visione di filmati e anche al gioco, visto appunto che Realme ha studiato un chip specifico che serve proprio per ridurre la latenza. Inoltre questo chip dovrebbe ridurre del 50% tutti i vari problemi di disconnessioni, di problemi e in effetti vi devo dire che dopo mesi alla fine di utilizzo non ho avuto davvero alcun problema, non ho mai avuto disconnessioni o veramente problemi come di solito avviene invece in altre cuffie, in altri auricolari particolarmente economici. Naturalmente abbiamo la possibilità di impartire poi diversi comandi andando ad agire sul bacchetto delle cuffie, nello specifico di standard con due tap possiamo andare a rispondere alle chiamate o mettere in play, pause la riproduzione, con tre tap possiamo invece passare la traccia successiva, tenendo premuto invece possiamo terminare la chiamata oppure andare a richiamare il nostro assistente vocale preferito che sia Google o Alexa. La funzione aggiuntiva che farà però felici i gamers è che tenendo premuti entrambi gli auricolari una voce ci avvisa che entriamo nella modalità gioco e che quindi va a ridurre ulteriormente la latenza portandola addirittura attorno ai 100 millisecondi che è veramente ottima. Buona anche la batteria in quanto con una singola ricarica permette di ascoltare la musica a volume medio per circa 3 ore abbondanti e arriviamo alla fine alle 17 ore di utilizzo usando alla fine tutta la ricarica che c'è all'interno del case. Concludo dicendo che l'ultima cosa realmente positiva di questi auricolari è il fatto che loro possono essere abbinati anche all'applicazione Realme Link che sarà un po' la colonna portante, il filo conduttore di tutto questo video. È positivo perché con l'applicazione possiamo vedere anche che vedremo poi alla fine anche negli altri due accessori è fatta veramente bene ed è apprezzabilissimo che Realme abbia dedicato una singola applicazione per tutti questi accessori rendendo quindi facile di facile accesso a tutti i dispositivi. Da qui comunque possiamo andare ad attivare semplicemente il game mode andando ad attivare la spunta di cui vi parlavo prima oppure aumentare i bassi o il volume. Possiamo inoltre andare a modificare tutti i comandi di default che vi ho descritto prima oltre che poi andare ad aggiornare anche il firmware. In realtà al proposito ci tengo a sottolineare come nel corso di questi mesi io abbia ricevuto diversi aggiornamenti che hanno anche introdotto alcune funzioni, che le hanno migliorate quindi ottimo, veramente brava Realme che è riuscita a stare dietro proprio anche a questi accessori e ora passiamo alla seconda cosa che più in assoluto mi è piaciuta ovvero questa Realme Band che naturalmente va un po' a richiamare la più famosa Mi Band. Detto questo comunque mi è piaciuta per la comodità in quanto spesso ci si dimentica di portarla. Ha un cinturino abbastanza morbido, con una chiusura classica e quindi lo fa essere sicuro non rischiamo di perderlo. La cassa è in plastica e sul fondo troviamo solo i sensori senza il pin per la ricarica. Infatti Realme ha pensato di utilizzare una soluzione che abbiamo visto anche su altre band e che trovo francamente molto utile ovvero possiamo posizionare la ricarica, cioè ha posizionato la ricarica in un prolungamento alla fine del corpo centrale della band stessa. Quindi in buona sostanza per ricaricarla basterà andare ad estrarre il bracciale e avremo un attacco di tipo maschio USB classico da inserire nella presa per esempio di un PC oppure di un caricabatterie. Questo sistema ha il vantaggio che possiamo eliminare tutti i cavi di ricarica e ridare quindi la batteria al nostro Fitness 3 che era in praticamente qualsiasi circostanza. Il display comunque ha colori, la visibilità è sufficiente e di poco le dimensioni inferiore al pollice e supporta comunque oltre 65.000 colori. Sulla parte inferiore troviamo il pulsante touch che ci permette di interagire con il menu che è alla fine molto semplice. Naturalmente abbiamo i quadranti che sono personabilizzabili e la possibilità di selezionare anche diverse attività fisica di cui tenere traccia. Bello tra l'altro poi che possiamo aggiungere l'opzione che vada a riconoscere automaticamente quando stiamo svolgendo proprio attività fisica e anche questo è iperpositivo. A questo proposito c'è da menzionare che è comunque dell'attività fisica che abbiamo la certificazione IP68 che la rende quindi adatta allo sport ma sconsigliata per la piscina o il mare. Naturalmente possiamo controllare molti valori del nostro corpo e anche della b-band stessa in modo più esteso grazie all'applicazione che vi ho mostrato prima. Nello specifico possiamo controllare i nostri battiti sia quando andiamo a fare una misurazione spot che anche la possibilità di rilevarla ogni 5 minuti. Inoltre abbiamo ovviamente la possibilità di rilevare i passi che abbiamo fatto nel corso della giornata e misurare le ore e la qualità del nostro sonno. In questo senso devo dirvi che la misurazione delle Realme Band l'ho trovata convincente e veramente molto precisa. Altra cosa utile che possiamo attivare è il ricordo di andare a bere l'acqua come anche la ricezione delle notifiche che le attiva da praticamente tutte le applicazioni. Naturalmente non potremmo rispondere e la visione per esempio delle Emoticons non è possibile e quindi però alla fine per vedere qualcosa al volo di quello che arriva sul nostro dispositivo principale va bene ed è un ottimo strumento. Bello poi che anche lei sia aggiornata e che con gli ultimi update è stata aggiunta anche la possibilità di andare a comandare la riproduzione della musica direttamente dal bracciale. La batteria alla fine dura circa una settimana, diciamo sei giorni di media e si ricarica in circa tre ore. E ora concludiamo con quello che forse mi ha un po' più deluso ovvero questo Realme Watch. Mi ha deluso ma forse perché anche le aspettative erano troppo alte comunque per la fascia di prezzo forse va più associato ad un Mi Band ad un tracker avanzato più che a un watch vero e proprio. In ogni caso la presentazione è buona perché la scatolina è fatta bene ed è abbastanza intrigante. All'interno troviamo il watch assieme alla sua basetta per la ricarica con pin ed è anche magnetica. Risalta subito sicuramente l'ampio display touch da 1,4 pollici che è anche discretamente luminoso anche se lo devo dirvi in alcune situazioni particolarmente assolate col sole a picco ho fatto un po' fatica. La risoluzione comunque è un 320x320 quindi tutto sommato anche gradevole alla vista. Naturalmente abbiamo la possibilità di cambiare i quadranti disponibili ce ne sono 12 se ne possono eventualmente scaricare tanti altri anche se ho fatto un po' fatica a trovarne di accattivanti forse il problema maggiore è che non sono modificabili e quindi non sarà sempre facile trovare il più adatto alle nostre esigenze. La costruzione della cassa comunque è solida e ben fatta ha il peso complessivo di soli 31 grammi di certo quindi non è ingombrante o pesante da indossare anche dopo giorni di utilizzo avendolo sempre addosso non mi ha mai dato fastidio. Anche il cinturino infatti a questo riguardo è sempre piacevole ed è anche un pochino più morbido e confortevole rispetto per esempio a quello della Realme Band. Quindi sicuramente a livello di conforto nessuna critica perché portarselo sempre dietro assolutamente non è un problema è veramente inesistente una volta che ci avete fatto una mezza giornata di abitudine. Anche le funzioni poi alla fine sono diverse sicuramente quella più interessante è la misurazione dell'ossigenazione del sangue visto che è in grado di darci informazioni accurate in questo momento storico è abbastanza importante insomma. Abbiamo come sulla Realme Band anche la possibilità di monitorare naturalmente battito cardiaco però l'ho trovato un po' meno preciso rispetto alla Band stessa e spesso molte letture non vengono prese quindi capita diciamo nel nostro grafico giornaliere di vedere dei salti o delle mancanze. Abbiamo anche qui la possibilità di monitorare fino a 14 attività sportive ma manca purtroppo GPS quindi tutto si baserà sui nostri passi a meno che non abbiamo con noi il nostro smartphone. Oltre al display la cosa positiva migliore rispetto alla Realme Band è il fatto che con i futuri aggiornamenti avremo la possibilità di maggiori controlli su dispositivi IoT quindi con la casa connessa per esempio oppure potremmo andare a gestire addirittura gli stessi auricolari di Realme che vi ho mostrato prima. Però alla fine mancando ancora queste funzioni come vi ho detto nell'intro di questa sezione di questo Realme Watch beh alla fine lui va un po' più paragonato a un tracker avanzato, un tracker evoluto più che a un watch vero e proprio. Anche perché qui naturalmente possiamo leggere le notifiche ma queste vengono spesso troncate anche qui come sulla Realme Band le emoticons non vengono riprodotte quindi alla fine la lettura delle nostre notifiche non è sempre semplice. D'altro canto molto positiva la connessione che è sempre affidabile e avvisa subito quando riceviamo un messaggio o una chiamata cosa che avviene a tal proposito anche proprio sulla Band. L'ho trovato invece poco affidabile per quanto riguarda la rilevazione del sonno in quanto la rilevazione poi alla fine non è proprio precisa e comunque come sulla Realme Band possiamo ricevere avvisi sull'idratazione e in questo caso attivare anche la previsione del tempo le previsioni del tempo che su un quadrante del genere sono anche facili e gradevoli da visualizzare. Tutti questi dati possono essere rivisti proprio sull'app, sempre sull'app Realme Link che quindi è completa ed è forse la vera cosa in più che ci dà questa applicazione rispetto ad altri prodotti ma alla fine vi dico questi due, le Buds Air Neo e la Realme Band sono due prodotti che mi hanno veramente soddisfatto e che vi consiglio. Beh, in realtà questo è tutto e quindi io vi saluto un saluto da Daniele Pintus quindi da Notebook Italia.